Vi ricordo che se volete acquistare i crediti potete andare su thefootshop.com e con il codice GODSDRUG Avrete il 5% di sconto Bella ragazzi bentornati finalmente stavo vedendo sulla finestra chiusa Ha rotto division 1 finalmente finalmente possiamo forse salire in divisione 2 Perché questo è quello che è successo E' quello che è successo nelle ultime partite 5 vittorie Non si possono vedere tutte vero? No vabbè 5 vittorie Un pareggio e una sconfitta Alle ultime 5 tutte vinte ne avevo partite un po' male con un pareggio e una sconfitta E poi divisione punti 25 possiamo addirittura vincere il titolo Ma la vedo molto molto dura Quindi let's go Abbiamo 3 partite a disposizione eh ve lo ricordo 3 partite 9 punti ne devo fare 2 Puttana Eva Ok questo qua sicuro c'è la squadra inglese 82 Bug Vai ragazzette 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 Il numero della cazzette è solo La parata La parata Sei così Seip palkao Seip palkao la cazzetta è il numero dela gassette Oh cosa è passata Chi èww No Com'è passato Puttana vacca Ma la cazzetta, la cazzetta, la cazzetta, la cazzetta, la cazzetta Rigore netto È netto signori, è netto, è un rigore netto Cioè io mi stupisco del fatto che non l'abbia espulso e incarcerato a ribibbia Perché è un rigore netto No, l'ha presa, non ci credo Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? Ma quando tutto sembrava rovinato Fallò 2-1 Rodriguez 2-1 Rodriguez Sarà un po' impappinato ma l'ha fatto Rodriguez Grande Bella Roscio, mortacci tua E dai Dai tu tiri 2-2 che schifo Ok, rimpallo Il portiere mio che è una chiavica Era centrale sto tiro Ma ha deviato da lui sotto l'incrocio È rigore, è giusto, giusto, giustissimo Sembrava tutto rovinato 2-2, un rigore contro Ma Dai, cazzo, sì, uno per uno E ora via da qui Vabbè, fine primo tempo 2-2 Sta 7 diri Lui, 4 ovviamente 2 gol Certo Ed il secondo tempo inizia con un bel baghino Dove va? Dove va? Non sto spingendo niente io, regà Non so, non ho spinto niente Non ho spinto niente, regà Non stavo spingendo niente Ok, diciamo che è stata tagliata la fine per rischio scomunica Ok, abbiamo due partite e due punti da fare 79 Spagnola, ibrida, del cazzo Dunque, regà, io vi farei vede come gioco qua a squadra inglese È tutta un'altra cosa Cioè, fa schifo sta squadra in confronto Gol Gol No, strano Bello Questo è stato fantastico, guarda Vai, Falcao È l'occasione di redimerti Non ci posso credere Non ci posso credere Io quante volte devo cliccare per fargli tirare la palla al coglione Grandi calci di punizione Però è bello, complimenti C'è la pressione a due A due Cioè, tre partite c'è stavano Tre partite La prima l'ho persa perché il portiere è un coglione Questa l'ho persa Sto perdendo perché Il segna di testa L'imbecille, ovviamente E i miei giocatori, ricordiamo che hanno sbagliato Otto Dove sono i miei? Vai così Su È sì, Fier Che cazzo Ha bandierina, ma fischia Fuori gioco, non è fuori gioco poi Eh già Il frittella Che sembrava quasi passato La divisione due sembrava ad un passo Si ritrova con un 3 a 0 Un 3 a 0 di passivo E ancora I due punti da fare Mancano ancora quei due fottuti punti Che ci possono dividere Anzi che ci dividono Dalla divisione due Quella che poi ci potrebbe far arrivare in prima divisione Ma ricordate che il frittella È la squadra migliore del mondo Il frittella Non si arrende mai Cioè, potevo vincere il titolo, capito? E invece no Sto all'ultima partita ancora non so passato Fallo Tira Taglia 1 a 0 Sì, 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 sì Sì Tutti a scuola da mangi di Sei solo Non fa scherzi Fallo 2 a 0 La telecamera seppure è spenta Sei 2 a 0 2 a 0 Sì, frittella Non mollare Perché sono giallo Ma il Falcao Non fischia Se fischia me cazzo Falcao Chiudi là 3 a 0 3 a 0 Forse la chiudono qui Forse la chiudono qui Forse la chiudono qui Ultima partita Due punti al termine No Esci Sì Testa de merda Via questa pallata qui 3 a 0 Fino a primo tempo Chiudiamo signori La cazzetta Chiudila col 4 a 0 Signori Signori 4 a 0 Il frittella Sta volando Verso la divisione 2 E nessuno lo può fermare Divisione 2 Divisione 2 Divisione 2 Stiamo arrivando Stiamo arrivando 4 a 0 La sorreta Sempre di più Bene Tanaeva Grande intervento difensivo Attenzione 4 a 2 Due gol uguali Affatto Finita Finita Divisione 2 Divisione 2 Divisione 2 Sì finalmente Divisione 2 Divisione 2 Divisione 2 Non ci si crede Non ci si crede Non ci può credere Il frittella Passa In divisione 2 Con un 4 a 2 Incredibile Una dimostrazione Di forza Assurda Il frittella Va a vincere Quest'ultima partita Il frittella Non ci si è mai arreso Il frittella Non si arrenderà mai What? Oh Il famoso scherzi No raga Non ci credo Che cosa? Che cosa? Raga Mi dite Mi dite per favore Come fai Come fai A non odiare Questo gioco Quando crea Una Ma raga Stiamo scherzando Stiamo scherzando Qui si sono raggiunti Dei livelli Mostruosi Di merda Cioè come fa? Come fai? Come fai? Come fai? Cioè ho vinto Quattro a due Mi ha dato errore Disconnesso Cristo Io lancio tutto Vabbè Ci rendiamo alla prossima Non mancate È bella